L'arte ispira sempre e comunque e quando si parla di icone il rapporto visivo tra arte e realtà si fa ancora più evocativo. Un binomio perfetto quindi, quello tra arte e bellezza che prende forma nel progetto Exhibit in collaborazione con Avantgarde dal 7 marzo al 7 aprile in scena a Bari e Molfetta. Questa volta le protagoniste dello studio sono le icone del Novecento che diventano di ispirazione per la nuova iniziativa di grande pregio che accoglie in un ambiente esclusivo l'arte di Vincenzo Mascoli. Se noi guardiamo tutti i lavori che ho realizzato sono sì immagini iconiche ma le immagini iconiche vengono rappresentate da quello che è il loro vissuto storico, il racconto nel racconto. Il concetto del racconto nel racconto assume un significato molto importante oltre che il soggetto in primo piano che ovviamente è l'icona stessa. Le sue opere ispirate inserite nel progetto trovano casa a partire dal 7 marzo a Bari nell'esclusivo e raffinato salone di Salvo Binetti un professionista che sa bene coniugare l'arte alla bellezza, quella delle sue clienti. Le icone sono dei riferimenti per noi, di conseguenza anche noi non andiamo alla ricerca delle tendenze perché la tendenza è un po' fine a se stesso ma quello che amiamo è proprio la ricerca delle proporzioni dove attraverso la morfologia o attraverso una cura attenta dell'iride, dell'incarnato andiamo proprio alla ricerca del look più giusto che serve alle nostre ospite e quindi mai nulla per caso, ogni look è creato su misura attraverso l'equilibrio delle proporzioni.